Dottore Miracoloso cura ogni tipo di malattia a 20 euro E se non ci riesce, regala 100 euro Questo qui vuole fregare le persone Adesso lo incastro io Salve dottore, non riesco più a sentire i sapori Non si preoccupi, ci penso io Infermiera Scaffale 33, fialetta numero 7 Che schifo, ma è benzina! Ha visto? Hai riacquistato i sapori Sono 20 euro Mi ha fregato Domani lo frego io Salve dottore, ho perso la memoria, non ricordo più nulla Non si preoccupi, ci penso io Infermiera Scaffale 33, fialetta numero 7 Ma che schifo, ma questa è la benzina di ieri! Ha visto? Hai riacquistato la memoria Sono 20 euro Filo naturale, domani non mi fregherà più Dottore, ho perso la vista, la prego mi aiuti Mi dispiace molto, ma questo è un problema che purtroppo non riesco a rispondere Ecco a lei 100 euro Ma questi sono 20 euro Ha visto? L'hai ritornata la vista? Sono 20 euro Amore di mamma, hai pulito la stanza? Mamma sto colorando, lo faccio dopo Amore di mamma, hai pulito la stanza? Lo faccio dopo Amore di mamma, hai pulito la stanza? Mamma mi sto sposando, lo faccio dopo? Ma dopo quando? Te ne vai? Sono 30 anni che non pulisci questa stanza, è sporca! Prendere il voto S in tutti i livelli cyberspazio Guarda, guarda, ho ancora 5 secondi avanzati Beh, un gioco da ragazzi Prendere il voto S nel livello 1-2 Porco c***o Mr. Legman, hai visto Chaos Sonic? Ehm, no, non l'ho visto Beh, non lo vedo da stamattina e questo silenzio comincia in sospettil... Che cos'hai sulla faccia? Sono baffi, dottor Dippe Che c'è? Ti sei già dimenticato che cosa sono i baffi? A fare i baffi non mi batte nessuna Zitto baffo Oh, sento io che il bel fetto Ho capito che l'altro giorno quel liccio blu ti ha lanciato i baffi mentre dormivi Ma Chaos Sonic ci serve per le nostre conquiste Quindi fai il blavo e mettilo giù subito No, ho già perso i capelli in gioventù E non intendo vivere un solo minuto senza baffi Anche se a volte questi baffi danno la scossa Eh? Ah, ciò! Eheh, eccone un'altra Sonic, Knuckles, io devo andare in udienza con il gran sacerdote Vi lascerò soli due ore Mi raccomando! Per chi ci hai preso, paladino Emy? Vai pure dal tuo prete Sì, infatti Una taverna devastata Due teste spaccate come zucca sotto il sole Un ferito e un castrato Tutto in due ore Due ore che vi ho lasciati soli Beh, devo dire che la castrazione è stata divertente Due ore! Grazie al nuovo, corposo aggiornamento Last Frontiers per Sonic Frontiers Sonic sarà affiancato in battaglia dai suoi migliori amici finalmente giocabili Harley Quinn Perché è così serio? Super Mario It's me, Mario E... Bugs Bunny Ehm... Che succede amico? Aspetta, cosa? Voi tre che ci fate qui nel mio gioco? E dove sono Emy, Tace e Knuckles? Ah, parli dei tuoi veri amici? Sono lì dentro Io continuo a dire che lo stanno facendo apposta Bene, bene Oh cielo, e mi sta per cantare È adorabile La buona notizia per te E che faccio affidamento sul tuo aiuto E qual è quella cattiva, prof? Che faccio affidamento sul tuo aiuto Ora comincia a correre E il capo dei briganti vi dice Eroi, se non deponete le armi, ucciderò gli ostaggi Non penso proprio Quindi hai un piano? No, ho detto che non penso Vado in ira e attacco Ha 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 Fanciagli ostaggi Alequei addosia a Alequei addosia a Schimbat